E i bambini sono tutti uguali, proviamo a renderli uguali almeno nella prima cellula della società che è la scuola. Dalla polemica sulla questione pane e olio ad una proposta di legge in tema a Mense, presente questo pomeriggio a Montevarchi l'onorevole Nunzia De Girolamo ha supporto a sostegno del sindaco Chiassai. Lei si è trovato un buco nel bilancio, ha affrontato questo tema, io ho avuto modo di conoscerla attraverso il caos di quei giorni e avevo una proposta di legge che volevo depositare ma che questa cosa mi ha dato uno spunto ulteriore per farlo. Siamo a fine legislatura ma questo governo è un governo del Partito Democratico, invece di fare polemica potrebbero sottoscrivere questa proposta, chiedere a Gentiloni, alla Boldrini e ai loro capigruppo di calendarizzare questa proposta è di trasformare la Mense in servizio pubblico essenziale affinché tutti i bambini possano essere trattati allo stesso modo e soprattutto si rivedano le tariffe cercando di mettere un contributo dello Stato e senza gravare sempre e soltanto sugli enti locali. La polemica era divampata alcune settimane fa dopo che l'amministrazione comunale aveva deciso di servire pane e olio ai bambini in caso di morosità. Inizialmente erano 38 i genitori non in regola con i pagamenti, ad oggi l'amministrazione comunale ha raggiunto il suo obiettivo, infatti tutte le famiglie che usufruiscono del servizio sono in regola con il pagamento, mentre sono circa 200 quelle che hanno deciso di rinunciare alla mensa per il proprio figlio inviando un passo alternativo. Noi siamo per un concetto di uguaglianza, di rispetto perché dobbiamo ricordarci che chi non paga il servizio e può farlo grava su tutti i cittadini, soprattutto sulle fasce più povere.